Siamo in via Emilia Levante 96 a Faenza, a solo i 4 km dalla Piazza del Popolo e a 2,5 km dalla città. La posizione è particolarmente tranquilla, siamo immersi nel verde ma con la città a portata di mano e là in fondo c'è anche la via Emilia che ci conduce molto rapidamente alla proprietà. Tuttavia però non ne sentiamo il rumore. La proprietà è costituita da una casa indipendente già abitabile, ristrutturata da pochi anni e da una legnaia a deposito, se vedete alle mie spalle, oltre ad un fienile. Oltre a 1100 metri di corte esclusiva a cui si aggiungono 19.000 m2 di terreno agricolo per totali 2 ettari. Possiamo proporre la proprietà con i 2 ettari di terreno particolarmente adatti a chi ama degli hobby all'aperto o voglia esercitare la professione di agricoltore o in alternativa solamente con 1100 metri di terreno e tutti fabbricati ad un prezzo ridotto molto conveniente. Per concludere vi consigliamo di fare una visita gratuita a questo immobile che è a 2,5 km dalla città di Faenza, quindi molto comodo ma nello stesso tempo lontano dallo stress della città e da tutte le problematiche che conoscete molto bene. Venite a trovarci, vi accompagniamo molto volentieri.